Musica Benvenuti a tutti ad un nuovo video intervista dell'ufficio stampa degli giocassini di Sanremo Io sono Tommy, lei sarà brusco e siamo qui con degli ospiti d'eccezione Siccome abbiamo qui dei testimoni di giustizia, anche se Rocco dice che non gli piace la parola Allora, innanzitutto chiediamo a Rocco qual è la parola che preferisce, con cui essere definito E beh, dico che non mi piace il testimone di giustizia perché è una cosa che dovremmo fare tutti Denunciare i soprusi e le ingiustizie, quindi io mi sento semplicemente un cittadino responsabile Magari testimone sì, ma della mia esistenza Allora, innanzitutto c'è da fare una premessa che noi siamo qui Abbiamo appena presenziato all'incontro di Libera in vista del presidio del 21 marzo In cui tutti gli anni si ricordano le vittime di mafia E abbiamo approfondito e abbiamo avuto la testimonianza da parte di Giovanni e Francesca Gabriele E di Rocco Mangiardi, scusate Allora, innanzitutto vorremmo cominciare con una domanda che vi fa Sara Sì, innanzitutto vi vorrei chiedere se voi siete stati consapevoli prima di quello che vi è accaduto Del fatto che la mafia aveva un grande potere nel vostro territorio Noi la mafia ce l'avvertiamo, l'abbiamo avvertita Perché anche io nel mio magazzino, nella mia attività, non è che non sapevo Chi erano quelle persone che stavano orbitando intorno alla mia azienda Perché si conoscono, i mafiosi si conoscono Fatto sta che noi li conosciamo adesso, i mafiosi E quindi ci sappiamo anche difendere, denunciandoli, eccetera, eccetera I problemi purtroppo restano per voi, per le vostre città, per le vostre province Perché voi purtroppo per l'informazione o quant'altro Pensate ancora che i mafiosi li vedreste in giro con la coppola e col fucile in spalla Invece non è così, loro adesso stanno corrompendo, stanno investendo Stanno facendo economia, ma non la fanno tanto da noi questi investimenti Non li fanno da noi, ma li fanno da voi Perché noi là li segnaliamo, qui non li conosce nessuno Quindi voi dovete imparare a conoscere le mafie economiche A proposito, tu hai detto che voi li segnalate là E quindi là è un problema palese, mentre qui è più nascosta la mafia A proposito io vorrei chiederti Alla vostra età, cioè alla nostra età Quando voi avevate la nostra età eravate quasi sui 17-18 anni Sentivate la mafia? Come la percepivate? Alla tua età non sentivo la mafia davvero Anche perché io abitavo in un'altra città Però in quest'altra città ho avuto quegli bellissimi incontri Che ti rendono forte per tutta la vita Io abitavo a Torino, ho avuto la fortuna di incontrare Don Luigi Ciotti lì a Torino Proprio nella mia... avevo la tua età a grosso modo E questo incontro ha fatto sì che io iniziassi Io fossi costruito con certi valori Ecco, non ero al mio paese So, una cosa te la posso dire perché la mafia esisteva già allora Io e la mia famiglia, mio padre Ci ha dovuto portare in un altro al nord Perché non... dando consenso al sindaco e ai politici di turno Mio padre in quel periodo non trovava nemmeno la farina di che sfamarci E piuttosto che piegare la testa ai mafiosi Che erano allora le guardanie del sindaco, del medico condotto eccetera eccetera Dei baroni Ha preferito portarci con dignità a vivere a Torino Le mafie c'erano anche allora Perché io sono partito da piccolo e poi sono andato a Torino Giovanni, tu hai detto che lo Stato c'è se noi cittadini ci siamo Ma quando tu vedi o senti dalle notizie che ci sono delle istituzioni colluse con la criminalità Ecco, che cosa ti pensi? Ritorno su quella parola delle mene marci Perché le mene marci ci suonano, noi che ci possiamo nasconderci Però, come ho detto e lo ripeto, lo Stato c'è quando ci siamo noi Non c'è lo Stato, se non ci siamo noi non ci può essere Perché loro fanno il suo dovere Non dobbiamo fare il dovere, c'è quella parte buona dello Stato che fa il suo Però ci deve essere la parte buona che deve fare pure il suo cittadino La parte giusta perché lo Stato ci dà delle risposte Se ognuno di noi facciamo la nostra parte Allora, abbiamo messo di presentarla ma è qui con noi anche Mauro Orengo Che è la referente provinciale per la provincia d'Imperia di Libera E a tal proposito io chiedo, siccome Rocco è un imprenditore che si è rifiutato di pagare il pizzo Giovanni e Francesca sono dei genitori di una vittima di mafia Fra l'altro una vittima accidentale, non era la vittima designata Che è un dolore forse ancora più grande Libera, come interagisce con queste persone? Qual è il suo scopo e cosa vuole fare? L'obiettivo finale L'obiettivo finale è realizzare la giustizia, la libertà e i diritti di tutti Quindi quello è l'obiettivo finale e ce l'abbiamo tutti ben presente Per quanto riguarda invece il tema dei familiari delle vittime innocenti delle mafie All'interno di Libera c'è un'associazione Il gruppo dei familiari delle vittime di mafia all'interno di Libera è molto importante Perché fin da subito, da quando è nata Libera nel 1995 È stata vicino ai familiari delle vittime innocenti delle mafie Creando questo gruppo E vi faccio un esempio che vale per tutti Ogni anno il 21 marzo, che è l'evento più importante Perché è la giornata dedicata alla memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie Quindi il 21 di marzo noi abbiamo un elenco che viene aggiornato costantemente In cui sono inseriti tutte le persone che sono morte per mano delle mafie Tutte, dalla più importante, che non necessariamente sono Falcone e Borsellini più importanti Comunque da quelle più note a quelle meno note Ma sono tutte importanti per noi Questo i familiari delle vittime di mafia lo sanno bene Lo sanno che noi con questo Adesso è uscito anche un libro che si intitola Vivi Dove sono raccontate le storie di tutte le vittime delle mafie E poi stimoliamo tutti i presidi che nascono in Italia Ad avere un nome di vittima di mafia meno noto Quindi di non assumere sempre noi il gruppo Falcone e Borsellino Il gruppo Falcone, il gruppo Borsellino, il gruppo dalla Chiesa Ma di fare in modo che tutti quanti possano avere dei presidi intitolati a loro Perché così in quel presidio la persona morta per mano della mafia continua a vivere Quindi anche se voi deciderete un giorno di dar vita a un presidio Io vi chiederò di scegliere una delle vittime meno conosciute Per esempio ieri è nato il presidio a Ventimiglia A Ventimiglia sapete tutti quanti che c'è il problema dei migranti Tutti quanti ne siamo consapevoli della gravità del fenomeno E delle gravi condizioni in cui versano queste persone Del rischio costante che corrono in quella situazione Allora Ventimiglia è nato il presidio Ed è stato intitolato a Iso Telarai Non l'avete mai sentito Iso Telarai era un migrante che lavorava per i caporali in Puglia E che è stato ammazzato di botte dai caporali in Puglia Quindi a Ventimiglia abbiamo scelto il nome di un migrante sconosciuto Proprio perché questo presidio abbia sempre presente Sia il tema delle vittime di mafia meno note Ma a maggior ragione di un ignoto tra i più ignoti Che era un migrante Come sono ignote tutte quelle persone che passano di là Che non si fanno riconoscere Che non vengono riconosciute Che però corrono il rischio della vita Perché sono vittime anche loro Dei gravi problemi del nostro mondo Va bene? Grazie mille Io invece voglio stimolare a voi ragazze Di poter mettere un nome sul registro Le vittime sono tanti innocenti Teniamole a vivere Scriviamole nelle scuole di tutta Italia E ogni mattina le teniamo a vivere Grazie Grazie, ci proveremo Francesca, Dodò aveva una grande ambizione a scuola Era molto bravo Che cosa diresti ai ragazzi che oggi non vogliono studiare E piuttosto che studiare vanno in gira a non far nulla o si drogano? Tutto parte... la base è la famiglia Se Dodò ha avuto una mamma che l'ha seguito in tutto e per tutto Se magari... lui aveva tutto ottimo a scuola Eccellente proprio nelle letture Insomma amava leggere Era proprio lui appassionato Però io a volte gli dicevo Basta anche un minimo Però devi studiare Io non pretendo dieci Però almeno che tu a scuola qualcosa la fai No? Non far nulla non porta a niente Perché poi nel passare degli anni puoi dire Ah, se ci avevo pensato prima Quindi ci vuole qualcuno che gli stimola questi giovani Se non hanno una buona base come famiglia Magari ci sono gli assistenti sociali Come stanno facendo il Reggio Calabria Magari le mamme se non riescono a dargli una buona educazione Oppure sono... che ne so... ci sono tanti casi Di rivolgersi magari a qualcuno che gli dia una mano Però non lasciamo gli soli questi giovani Oppure quel ragazzo che là dentro diceva che sono nulla facendo Non è vero niente Perché i giovani voi avete delle idee Siete intelligenti Quindi siamo magari noi adulti a sottovalutarvi in alcuni casi E non è giusto Perché voi avete anche una testa per pensare Per decidere delle vostre idee Anche sbagliando Perché no? Anche noi siamo stati giovani Abbiamo sbagliato Però sui nostri errori abbiamo capito tante cose E così io dico Mi rivolgo alle mamme, ai papà State vicino ai vostri figli Non buttateli lì davanti a un computer O a un tablet Parlare molto Discutere con i figli Perché si sentono soli E questo devono capire I ragazzi oggi sono soli Grazie allora per la stima prima di tutto Grazie mille Allora con questo messaggio di fare qualcosa E di muoversi per fare il proprio dovere Come ripete sempre Giovanni Fare ognuno la propria parte Noi vi ringraziamo Abbiamo dato meno attenzione Alla storia singolare Sia di Dodò che di Rocco Ma potete documentarvi su internet Abbiamo preferito fare delle domande più dirette Quindi vi invitiamo ad informarvi A non smettere qui di cercare E che questo sia solo un inizio Per far la propria parte E farci sentire per la lotta Contro le mafie e la criminalità Grazie a tutti Ci vediamo nella prossima intervista 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi E il solo Fabriotto Uno dei tanti E il nostro padre Mio padre La mia famiglia E il mio padre Io voglio molto bene Io voglio scrivere Calamato Con tanta differenza Io voglio scrivere